prima il consiglio dei ministri poi il capo dello stato sono le due tappe che martedì 26 gennaio giuseppe conte ha fissato per formalizzare le dimissioni da premier il conte bis insomma è arrivato al capolinea in senato infatti l'uscita di scena dei renziani ha posto la maggioranza in una situazione di ingovernabilità col rischio di cadere già mercoledì 27 in occasione della relazione sulla giustizia del guardasigilli alfonso bona fede cosa dobbiamo aspettarci in questo momento diciamolo francamente tutto è possibile dal conte ter con il rientro nei ranghi di italia viva ma bisogna vincere lo stracismo dei 5 stelle al governo istituzionale o di unità nazionale con intese allargate anche con la possibile entrata di diversi deputati e senatori di forza italia sino all'ipotesi più in fausta ovvero le elezioni anticipate quelle che lega e fratelli d'italia chiedono con sempre più insistenza tra le possibilità non si esclude che l'avvocato giuseppe conte non sia più in grado di garantire una maggioranza a quel punto i democratici potrebbero proporre si dice franceschini e guerini su cui renzi potrebbe non opporsi è difficile però che i grillini dicano sì in ogni caso qualsiasi scenario si verrà a determinare non riusciamo a scorgere il mantenimento dell'attuale assetto di governo anche qualora m5s pd e leu dovessero ricompattarsi con i renziani è davvero improbabile che gli attuali ministri possano essere confermati soprattutto sulle poltrone più discusse come quella dell'istruzione il fatto stesso che la ministra lucia azzolina abbia deciso di far saltare l'incontro con i sindacati per confrontarsi su come destinare i miliardi del recovery fund conferma che le priorità sono ben altre